Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore. In questo video parleremo della moneta da 2€ del Vaticano del 2020 dedicata al centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, ovvero Papa Giovanni Paolo II. In questo video vedremo nel dettaglio come è fatta la moneta nella versione Fondospecchio, ma ti parlerò anche della versione Fior di Conio. Vediamo un attimino come è fatto il cartoncino, qui è presente la moneta, Allora, su questo lato troviamo la scritta Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, di cui troviamo solo lo stemma del Vaticano. Su quest'altro bordo troviamo Ufficio Filatelico Numismatico Governato Città del Vaticano. E qui nella copertina, diciamo, troviamo sia il Papa che un'immagine di Gesù. All'interno di questo cartoncino troviamo un elegantissimo cofanetto, cofanetto in velluto, colore grigio, davvero molto molto elegante, molto bello. Apriamo il cofanetto e come sempre al suo interno troviamo sia il certificato della moneta che ne garantisce la sua autenticità, che la nostra moneta in qualità Fondospecchio. La moneta in qualità Fondospecchio vorrei ricordarti che è ben diversa dalle monete FDC, ovvero dalle monete in fior di conio, in quanto la sua lavorazione è completamente diversa. Infatti si vedono in risalto tutti i dettagli della moneta e si vede molto bene la differenza che c'è tra il disegno e il fondo della moneta. Per quello che riguarda gli elementi grafici presenti su questa moneta troviamo la scritta Papa Giovanni Paolo II, l'anno di nascita del Papa, 1920, e l'anno 2020, che sarebbe l'anno in cui il Papa avrebbe compiuto i suoi cento anni. La piccola R che troviamo sta a indicare la Zecca di Roma, perché per chi non lo sapesse le monete della città del Vaticano vengono coniate dalla Zecca di Roma, e sotto la scritta città del Vaticano. Troviamo poi, logicamente, la raffigurazione del Papa, Papa Giovanni Paolo II, e poi due strutture architettoniche. Una è la casa in cui è nato il Papa, e l'altra invece è la Basilica di Wadowicz, una città della Polonia. Sotto la basilica troviamo poi le scritte G.T.T. e M.A.C. Inc., che sarebbero i nomi dell'autore della moneta e dell'incisore della moneta, ovvero Titotto e Maria Angela Cassol. Poi sotto ancora troviamo la scritta città del Vaticano. Qui troviamo sotto il Papa, troviamo una foglia di alloro, ma una cosa un po' particolare è questa stella lucente, che sta a indicare il simbolo della Vergine Maria, ma al tempo stesso indica anche un'eclissi, un'eclissi solare. Perché? Perché sia nel giorno in cui è nato il Papa, sia nel giorno in cui è morto, si è verificata un'eclissi solare. Una cosa un po' particolare. Ruotiamo la nostra moneta e in retro troviamo la classica faccia della moneta da 2€. Logicamente i riflessi sono molto, molto forti, perché la moneta è in fondo specchio e poi c'è la capsula, queste capsule bellissime, grandi, che ne amplificano la lucentezza e anche, logicamente, i riflessi. Una moneta davvero molto, molto elegante, molto bella da vedere. Parliamo un attimo di tirature e di valori. Allora, possiamo dire innanzitutto che questa è una moneta molto rara. Perché? Perché innanzitutto non è stata emessa per la circolazione, quindi è una moneta che esiste solo per i collezionisti. Complessivamente esistono 79.000 pezzi, quindi già il numero complessivo è abbastanza basso. Di questi esistono 65.000 pezzi che sono in fior di conio e sono conservati nel classico folder del Vaticano. Poi esistono 5.000 pezzi che sono sempre in fior di conio ma sono conservati in una busta filatelico-numismatica, che per chi non lo sapesse è una busta che contiene sia la moneta da 2€ in fior di conio che un francobollo. In questo caso specifico si troverà un francobollo da 1,15€. Poi, per quello che riguarda questa versione di questa moneta, ovvero la qualità fondo specchio, la versione proof, esistono 9.000 esemplari. Parliamo un attimo di valori. Vi dico subito che la busta filatelico-numismatica non è molto ricercata e si fa fatica anche a trovarla in giro. Perché? Perché viene acquistata prettamente da chi fa collezioni di francobolli e sinceramente non me ne intendo più di tanto di francobolli, un argomento che ritengo debba essere affrontato da chi segue anche quel settore. Per quello che riguarda le quotazioni della busta filatelico-numismatica quindi non so dirti il reale valore attuale. Ti posso dire solamente che l'ultima volta che l'ho vista in vendita l'ho vista sui 50€ ma è passato un po' di tempo quindi il valore potrebbe essere cambiato. Per quello che riguarda la moneta in folder in fior di conio il prezzo oscilla tra i 35 e i 40€. Per quello che riguarda invece la versione prof ovvero questa che ho io in mano di cui esistono, ti ricordo, solo 9000 pezzi al momento il prezzo è davvero molto traballante ovvero cambia continuamente. Diciamo che si parte da una base di 110€ e si finisce intorno ai 130€. secondo me è una quotazione che nel tempo tenderà a salire proprio perché una moneta è davvero fatta molto molto bene il soggetto che è rappresentato sulla moneta è molto apprezzato e infatti è uno dei papi più apprezzati della storia della chiesa quindi questa moneta non è solo nelle mani dei collezionisti ma anche di tanti religiosi che tengono davvero tanto a questo papa se quindi secondo me questo è un prezzo che nel tempo salirà probabilmente nei prossimi mesi vedremo che questa moneta arriverà a cifre davvero molto importanti non so dirti quanto non so dirti che questa sarà la certezza assoluta perché è una mia previsione però logicamente se sapessi con certezza di questo rialzo acquisteri tantissime monete per poi rivenderle ma lasciamo questo lavoro chi lo fa di mestiere bene per quello che riguarda questa moneta è tutto spero che il video ti sia piaciuto clicca mi piace se ancora non mi segui iscriviti al mio canale per non perdere i miei prossimi video e se vuoi seguirmi anche su telegram trovi il link al mio canale in descrizione quindi non mi resta che augurarti un buon collezionismo un saluto a tutti ciao